Le mie sentazioni sono molto positive, si respira un'area positiva di ribassa diciamo, si vuole arrivare in alto e già incontrando il Presidente mi ha trasmesso questa voglia di puntare in alto diciamo. Ma diciamo che mi ricordo la tifoseria di Martina come una tifoseria molto calda che ci tiene alla squadra che sprona anche vedendo le immagini anche l'anno scorso è una tifoseria molto calda che sta vicino alla squadra e quindi speriamo di creare un qualcosa di tutt'uno con la città, i tifosi e lo staff. La trattativa diciamo che è stata una trattativa molto veloce, il mio procuratore si è sentito con il Presidente e mi hanno mostrato il progetto e subito mi ha convinto l'idea di calcio che c'è qui a Martina e quindi ho subito accettato. Il telefonicamento ha sentito il mister, il mister mi ha un po' illustrato le sue idee di calcio, idee che comunque sono molto valide e a me sono piaciute e quindi anche con lui c'è subito sintonia. Ma diciamo che in carriera ho fatto tutti i ruoli del centrocampo, ho giocato sia da play che da mezzala, ho fatto anche il tre quarti quindi play e mezzala è indifferente. Ma speriamo di riuscire come ho detto prima a creare un qualcosa di unico insieme ai tifosi, di portare più gente allo stadio e di divertirci.